Presidente del Signora, Presidente del Senato, Signora Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevoli colleghi, prima del Consiglio europeo tutte le forze politiche danno sempre l'augurio di buon lavoro alla Presidente del Consiglio, perché rappresenta l'Italia, noi non ci sotterremo. E in uno spirito di bontà abbiamo pure cercato di credere alle cose che lei stesse dicendo. Mi spiace doverle dire, Signora Presidente, che in un paio di passaggi ella ha leggermente esagerato. Mi riferisco ad esempio al momento nel quale lei dice che il potere dell'acquisto delle famiglie è aumentato secondo l'Ocse. Facerebbe un confronto all'americana una volta su questi temi, perché la spesa per consumi finali delle famiglie in termini nominali è cresciuta meno dell'inflazione. Ma il dato al quale ella fa riferimento, quello del terzo trimestre del 2023, secondo i dati Ocse, è un dato drogato per un rimbalzo tecnico. La invito a guardare i dati Istat del quarto trimestre 2023, che segnano un meno 1,4%. E sarebbe affascinante stare nel merito e discutere per chi ha ragione e chi ha torto e non per chi fa il tweet o il messaggino per chi ci segue da casa. Mi piacerebbe darle ragione e ascoltarla. Per esempio, io a un certo punto, lo confesso, stavo quasi per credere alla Presidente Meloni quando la Presidente Meloni ha detto basta con questa sinistra europea che governa l'agricoltura. Ora, la Presidente Meloni sicuramente sa che il Ministro dell'Agricoltura italiano non si può definire uno di sinistra. La Presidente lo conosce bene. Lo conoscono bene anche quegli agricoltori italiani che hanno visto aumentata l'IRPEF agricola con questo grande governo che dà importanza agli agricoltori. Ma mi sono incuriosito per capire chi è, perché mi sono perso dei colpi, chi è il Commissario dell'Agricoltura? Perché magari ha ragione la Meloni e io sto sbagliando e c'è un trinaricido comunista alla guida di Castero Agricolo in Europa. Il Commissario dell'Agricoltura si chiama Wojciechowski. Io ammetto di non averlo conosciuto prima, Wojciechowski. Voi non lo so. La Meloni lo dovrebbe conoscere perché è iscritto al suo partito, è un polacco iscritto al suo partito europeo. E allora, questo giochino dice che c'è la Presidente della Commissione, ha fatto un Green Deal che noi non accettiamo, ma si chiama Ursula von der Leyen. È di destra pure lei, il suo Vicepresidente del Consiglio, quello presente in aula, non quell'altro. È il grande sostenitore di Ursula von der Leyen. Allora, Presidente, parliamoci chiaro. Facciamo uno sforzo. Uno sforzo di lealtà reciproco. Lei non ci venga a raccontare barzellette in aula e noi le rispondiamo con la politica. Che c'è? No, è nervosa la Presidente. Il concetto di fondo è, primo punto, pongo il tema politico, Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen è la Presidente della Commissione. Il nostro gruppo europeo l'ha votata. L'hanno votata quelli della sinistra, l'hanno votata anche Grillini e l'ha votata Forza Italia. La Meloni non l'ha votata, onore al merito. Oggi, dopo cinque anni, io dico che Ursula von der Leyen è stata un disastro. Un disastro dal punto di vista ambientale, un disastro dal punto di vista istituzionale, un disastro dal punto di vista diplomatico. Invece, la Presidente del Consiglio oggi considera Ursula von der Leyen un interlocutrice, come è giusto che sia, ma una sorta di coperta di Linus per tutte le fotografie che deve fare. Perché quando Salvini, cercando di fare a Pontida un'iniziativa con Marine Le Pen, anche in modo un po' provocatorio, fa un evento a Pontida, l'evento di Pontida, la Meloni ospita la von der Leyen a Lampedusa. Peraltro sui migranti, segnalo, nel 2023, così per sicurezza dei numeri ci facciano il fact-checking, 158 mila migranti arrivati nel 2023, 153 mila quando al Governo c'era quello, quel Renzi che aveva fatto l'invasione, quando la sinistra faceva fare l'invasione, 153 mila. Ora che hanno chiuso i porti, 158 mila. Però fatto sta che comunque la Meloni chiama la von der Leyen, chiama la von der Leyen in Emilia-Romagna. Mi dice Bonaccini, mi ha mandato un messaggino, che il miliardo e duecento milioni ancora non l'hanno visto, aspettano un decreto del MEF. Chiama la von der Leyen in un'iniziativa diplomatica in Africa che noi giudichiamo anche con grande interesse. Noi siamo favorevoli al piano Mattei, a livello teorico, se funziona. Il punto, Presidente, è che lei non ci dice se con Ursula von der Leyen vuole governare i prossimi cinque anni l'Unione Europea o no. Noi le diciamo che, vista l'esperienza di Ursula von der Leyen, Ursula von der Leyen è un disastro. E per quello che riguarda noi, la nostra parte politica, siamo contrari a un nuovo mandato. Dopodiché, continuare a dire che non si fa politica con le foto, che vale per le foto con Biden, con le foto con Modi, però bisogna anche avere il coraggio di dire che nel 2016, dopo Brexit, Italia, Francia e Germania si sono visti insieme a ventotene. Nel 2022, Italia, Francia e Germania, dopo la guerra scatenata da Vladimir Putin, sono andate in treno a Kiev. Nel 2024, se al posto dell'Italia c'è la Polonia, io una domanda me la farei, non perché godo nel fatto che non ci sia l'Italia, io esigo che ci sia l'Italia, ed esigo che ci sia l'Italia, perché penso che l'Italia abbia una posizione importante da far sentire con la civiltà di chi non viene in un'aula del Parlamento a definire il Presidente della Repubblica Francese un femminio, perché questo dimostra la vostra incultura e la vostra mancanza di rispetto. Ma vedete, io che sono contrario alle posizioni di Emmanuel Macron di questi ultimi giorni, io sono contrario a ciò che ha detto Macron, perché lo trovo esagerato, io che dico questo, avrei voluto vedere il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e non il Primo Ministro Polacco a quel tavolo e penso che sarebbe servito anche a voi. Vengo rapidamente a chiudere. Perché? Perché, cara Presidente, diciamoci la verità, lei ha consapevolezza della difficoltà della sua squadra a livello internazionale. Non è un caso che unicum negli ultimi anni la Presidente del Consiglio ha cambiato lo scerpa del G7. Voi direte, ma questi sono argomenti poco importanti. No, 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 cambiare lo scerpa del G7 a tre mesi dal G7 che si svolge in Italia, cioè a metà del lavoro, significa avere qualche problema interno. Del resto, come dire, basta vedere Instagram per capire che non c'è nessuna che raggio ai danni dell'Italia. C'è qualche incapace a gestire i social media della Presidente del Consiglio. Così come non c'era nessuna aggressione russa quando un comico si spaccia per il Presidente dell'Unione Africana. È che qualcosa non funziona in quegli uffici. Allora, siccome io faccio il tifo perché l'Italia sia forte e credibile, sono contento che ci sia un cambio nella lotta. Però mi domando perché si deve mettere alla guida dello scerpa del G7 la direttrice dei servizi segreti italiani. Siccome io ho fatto la guerra perché quella, signora, non diventasse Presidente della Repubblica, perché penso che chi fa il capo dei servizi segreti deve fare il capo dei servizi segreti, sommessamente faccio notare che non c'è mai stato un direttore della CIA a fare lo scerpa del G7. C'è qualcosa che non funziona nel sistema istituzionale di questo Paese. E non è un caso se su Dossieropoli nata da una denuncia del Ministro della Difesa di questo Governo. Perché non ci prendiamo in giro. Quegli episodi avvenivano anche prima. Io ne sono testimone e vittima. Ma tutta la vicenda nasce da una denuncia sacrosanta, e bisogna dargliene atto, di Guido Crosetto. E quando Guido Crosetto fa la denuncia partono i primi dati. Il Procuratore della Repubblica di Perugia dice che è un verminaio questo dato. Abbiamo il Ministro della Difesa e il Ministro della Giustizia che chiedono alla maggioranza di fare una commissione d'inchiesta e la maggioranza che rifiuta la commissione d'inchiesta dicendo che c'è l'antimafia. Che non c'entra niente con questa storia. Allora, quello che voglio dire, cara Presidente, è che noi siamo dalla sua parte quando lei va in Europa, perché noi siamo per l'Italia. Ma quando lei ha l'occasione di parlare a questo Parlamento, al di là delle battutine sulla destra e la sinistra, che è sempre colpa della sinistra, che la sinistra ha rovinato tutto, persino sull'agricoltura quando governa la destra, ci faccia una cortesia, signora Presidente. Provi a sfidarci sulla politica. E noi concludiamo su questi tre temi che le poniamo. Il primo, noi diciamo che Ursula von der Leyen ha fallito. Lei e il suo Governo siete in grado di avere una posizione unitaria su questo tema. Le forze politiche di maggioranza hanno una posizione unitaria su questo tema. Due, la Presidente ha fatto un grande lavoro su un tema. E io voglio dargliene atto. Perché Chico Forti tornerà a casa grazie all'azione diplomatica del Governo. E siccome noi siamo intellettualmente onesti, lo riconosciamo, non era facile portare a casa. Come era giusto portare a casa Silvia Baraldini? Come è stato giusto portare a casa Imarò? Signora Presidente, lei ha il compito di portare a casa anche Ilaria Salis. E lo deve fare dicendo agli ungheresi che se non rispettano lo Stato di diritto devono smettere di prendere i nostri soldi. Terzo e ultimo, cara Presidente. Ma tutto bene. Ma fin qui non facciamo l'elezione diretta del Presidente della Commissione? Saremo sempre nelle mani dei burocrati. Perché l'Europa ha bisogno di un'unica grande riforma. Superamento del diritto di veto, elezione del Presidente della Commissione con elezione diretta e finalmente un percorso che ci porti agli Stati Uniti d'Europa. Noi ci siamo, non abbiamo capito. Dove siete voi? Grazie, Senatore Renzi. Iscritto a parlare il Senatore De Cristoforo. E nella facoltà, prego. Presidente, negli ultimi giorni... Grazie.